E posso pensare, dolcemente... Guarda l'espressione! Serviattona! Cari giudici, il prossimo talento ha fatto una richiesta particolare, quindi io devo accompagnare la rappresentante della nostra giuria popolare alla Camera Oscura. Ah, è una camera oscura allora? È proprio una camera oscura. Sì, ma magari un mentalista. Non lo sappiamo, non ci ha voluto svelare niente. Sarà un pittore con le pitture postore, sì.